Attenzione a Maniero, lo scambio con Chianese, attenzione Maniero, Benassi si oppone, porta vuota, Benassi! E poi Benassi! Incredibile! Cosa è successo davanti alla porta del Perugia? Mischia furibonda! Mischia furibonda! Ma Benassi ha compiuto due interventi da Champions League. Due interventi da Champions League per il portiere del Perugia, che ha salvato letteralmente la sua porta. Un'azione incredibile con l'Arezzo che non è riuscito ad andare in gol e con il Perugia che ha rischiato, ma è stato salvato da uno stratosferico Max Benassi. Ora Perulli, dall'altra parte la partita si accende, Perulli prova a servire Bondi, un pallone invitante un po' troppo lungo. Ma cosa ha fatto Benassi, che è riuscito a respingere al trentasettesimo in due occasioni? Quando sembrava oramai cosa ha fatto il gol dell'Arezzo. Questo straordinario ragazzo, che ha difeso con grandissimo orgoglio e dignità in queste due stagioni la porta del Perugia, che possiamo dirlo anche fuori dai denti, merita davvero una piazza importante. Per la serietà, la professionalità e per i grandissimi e prodigiosi interventi, che l'anno scorso sono valsi la salvezza per il Perugia, che quest'anno hanno tenuto a galla la squadra in molte occasioni.